If you are the answers, why did I wait so long to ask you the questions, kept myself hanging on Buonasera amici della notte, allora il vostro Sasi e le telecamere di Make Events sono qui questa sera a Nola all'HBV Glico per una serata all'insegna del Jet Set questa sera la notte degli Oscar, il Jet Set è qui, il Red Carpet è pronto, quindi aspettatevi tante ma tante stelle E allora Make Events siamo qui all'HBV Glico di Nola e sono in compagnia di cinque meravigliose stelle E allora ve le presento una ad una, voglio conoscere i vostri nomi Erika, Adela, Mary and Voice, Giulia, Tati E allora, e allora, chiedo a te, qual è il vostro ruolo qui stasera, così belle, così splendenti? Non voglio essere molto spinta, ma il nostro ruolo è di incendiare l'HB Qui c'è il divertimento, qui trovate tutto, tutto, tutto quello che si può volere in un sabato notte E allora vogliono incendiare l'HB, ma noi dobbiamo essere pronti anche a spegnerlo, giusto? Quindi, quindi, fatemi capire un po' questo locale, com'è, com'è? Bello, bellissimo ragazzi, raggiungeteci tutti, è bello, stupendo, e soprattutto trovate noi E allora trovate loro, è giusto? E allora voglio sapere, qual è il tuo uomo ideale, dato che qui ci sono tanti maschi che vi guardano? Ancora deve nascere, caro Ancora non deve nascere, e allora diciamo a tutti gli ospiti del Buglico, dell'HB, di tenersi pronti, giusto? E allora, prima di lasciarvi, voglio fare la domanda make a tutte voi, una alla volta Ma secondo voi, è meglio la prima o la seconda? Sempre la prima Beh, sempre la prima, la valutiamo come risposta, secondo te è meglio la prima o la seconda? Ovvio che la prima Ovvio che la prima, noi abbiamo due prime, eh? E secondo te? La prima Anche lei è per la prima Vai per la prima Vai per la prima Vai per la prima E allora qui sono tutte per la prima, allora prima di salutarci facciamo un saluto agli amici di Make Events Un bacio da queste splendide 5 stelle qui dall'HB Buglico Make Events E allora Fra Fiumi di Champagne sono qui al tavolo Sesto Senso Sesto Senso, wow! In compagnia di? Ennio E allora Ennio, Ennio, com'è andato? Come sta andando la serata? Come è partita? Come si sta evolvendo? Dimmi, dimmi Eh, lo vedete da sole, alla grande, no? Alla grande, alla grande, allora è la prima volta che vieni all'HB Buglico? No, no, non è la prima volta, c'è la seconda, la terza, la quarta Quindi sei un habitué? Ah, habitué no, però quando ci sono ci vengo volentieri E lo consigliamo a tutti gli amici di venire qui allora all'HB Buglico? Certo, lo consigliamo a tutti Ho capito E vedo che sei anche circondato da bellissime donne Quindi tu questa sera sarai proprio il top del top se è sto senso Il top del top, ora sono finanziati E allora l'ultima cosa, domandone Make Ma secondo te è meglio la prima o la seconda? La terza La terza, è vero? Furbo lui, furbo E allora Ennio, faccio un saluto alle telecamere e agli amici di Make Evans Un saluto a Make Evans E allora possiamo aprire questa fantastica bottiglia All'HB stasera non poteva essere altrimenti Nella notte degli Oscar ho trovato anche le mie veline Abbiamo la bionda Emilia E la mora Angela E allora ragazze, ditemi un po' come vi trovate questa sera qui? La serata come vi sembra? È stupenda, bellissima Favolosa È favolosa E ditemi un po', siete in compagnia o da sole? Sole Beh, amici sole, io quasi quasi poso il microfono e vado via con loro Voi che dite? No, va bene Allora, prima di lasciarci vi devo fare la domanda Make Ma per voi è meglio la prima o la seconda? La seconda La seconda Beh, anche su questo sono d'accordo E allora, facciamo un saluto agli amici di Make Events e alle telecamere di Make Events Ciao Un bacio, un bacio Un bacio E allora, HB Glicquot, sono qui nel privé, un tavolo scatenato Abbiamo qui il nostro Annuziata Annuziata, il nome, vogliamo sapere il tuo nome Luigi Luigi è Siccone Giovanni In compagnia delle splendide Susi Stefania E allora, ragazzi, come sta trascorrendo la serata? Vi state divertendo? Una bellezza, una serata bella Ringraziamo pure i PR che ci hanno invitato a questa serata Una serata bellissima Perfetto E da quanto tempo vieni in questo locale? La prima volta? Sì, questa è la prima volta Questa è la prima volta Beh, penso che ci ritornerai qui all'HB Sì, è un bellissimo locale Ho capito, eccola qui E intanto arriva un'altra bottiglia in questo tavolo Ragazzi, prima di andare via Prima di aprire questa bottiglia L'hanno data anche a me Prima Eccola qui un'altra Prima di aprire questa bottiglia Io devo fare la domanda Make a tutti voi Secondo voi Secondo voi E' meglio la prima o la seconda? La seconda La seconda La seconda Beh, in questo tavolo dicono la seconda Chissà E allora Mandiamo un bacio alle camere di Make Events Un saluto Tutti insieme Ciao Make Events E non poteva mancare per Make Events The Master of the Music dell'HB Ovvero il DJ Resident Flavio F E allora Flavio Com'è andata questa sera? Come sta andando il tutto? Sì, innanzitutto ciao a tutti E' stata una bella serata La gente si sta divertendo Molto molto bella come serata Bella gente Poi il locale lo permette Credimi E' una delle serate che vale la pena stare tutti quanti insieme Benissimo Flavio Tu sicuramente sarai qui anche nelle prossime Nei prossimi eventi fatti dall'HB Io volevo chiederti Essendo tu un esperto di musica Quali sono le prossime uscite I prossimi dischi da comprare per il 2012 Diamo un consiglio anche ai nostri amici Sì, guarda Io esperto ancora non ci sono Però nel mio piccolo Ti posso dire che la musica Sta avendo un cambio generazionale Nel senso che il commerciale Sta dando spazio alla musica tech house elettronica Quindi è una rivoluzione che si sta effettuando Anche in questo locale Sono cercato di portare la mia musica Per far capire alla gente Che la musica è qualcosa che si trasmette emozioni Perfetto E come artista della musica Quali sono i tuoi progetti più vicini I prossimi progetti per il 2012 Per l'estate Per l'autunno 2012 Sì, guarda Proprio ieri ho visto una stella cadente Il mio sogno del cassetto E' uscire come produttore Siamo quasi pronti con una mia produzione Che uscirà a fine anno Quindi spero di intraprendere questo mondo della produzione E di iniziare questo cammino Che è molto molto interessante Quindi non posso far altro che farmi gli auguri da solo Perché ben presto uscirà il mio primo disco E allora noi di Make Event Io Sasi Ti facciamo un grosso in bocca al lupo Sicuramente ci rivedremo qui all'HB Dove tu sarai sempre Uno dei più grossi esponenti musicali In bocca al lupo per tutto E faccio un saluto alle telecamere di Make Event Da parte tua Allora io vi ringrazio a voi Vi saluto Mi raccomando seguite questa televisione Perché è molto molto interessante Ciao a tutti Allora siamo qui nella stanza dei bottoni Con il Deux Ex Machina di Tutto Ovvero il direttore artistico dell'HB Vuglico di Nola Carlo Giannini Buonasera Carlo Buonasera a voi Allora Carlo Questa sera Sabato 26 novembre 2011 L'HB Vuglico ha presentato un evento dal titolo Notte degli Oscar Ci spieghi un poco come ti è nata questa idea Sì niente Tutto è nato con l'idea appunto Con questa Notte degli Oscar Di far rivivere a tutte le persone che venivano Un momento da star Mettendo appunto all'ingresso Quello che è il classico red carpet Per la sfilata di entrata E beh possiamo dire che Di stelle questa sera Ne sono entrate parecchie In questo splendido locale Allora tu sei direttore artistico dell'HB Vuglico Un locale che è nato un po' di anni fa Ci racconti un pochino Ci fai un po' la storia Di come è nato E di come si è sviluppato questo locale Certo Allora questo locale È nato precisamente il 31-12 Il 2010 Quindi abbiamo inaugurato a Capodanno Dell'anno scorso Questo è un locale che nasce con un'idea un po' diversa Da quella che diciamo sono tutti i classici locali Nel senso che noi non offriamo O serate Tutti i sabati O tutti i venerdì O tutte le domeniche Ma bensì siamo partiti l'anno scorso Con un paio di serate al mese Per arrivare ad oggi Che è il secondo anno Con bensì quattro serate al mese E cercheremo sempre di crescere Benissimo E allora da buon direttore artistico Per me che events Non puoi non ricordarci I prossimi eventi Dell'HB Proprio per far sì Che tutte le persone Possano venire a vedere Questo splendido locale A passare qualche serata Veramente in buona compagnia E con stile e classe Come è l'HB Vuclicò Infatti Per diciamo Per l'anno 2011 Gli ultimi eventi Che poi arriveranno A quello che è L'evento conclusivo Del capodanno Ci saranno Il sabato 10 dicembre E poi con la serata Del 24 dicembre Con quella che sarebbe La serata di Natale Quindi li aspettiamo tutti Gli amici di McEvins E non solo Per sabato 10 dicembre E sabato 24 dicembre E poi io volevo dirlo io Ma me lo hai anticipato tu Dobbiamo dire a tutti Che qui all'HB Vuclicò Stiamo preparando Un capodanno Da urlo Vogliamo giustamente Dare qualche anticipazione Per far venire L'acquolina in bocca I nostri amici E farli accorrere qui Per il capodanno Guarda ti dico la verità A me piace Dare le cose Un poco alla volta Perché abbiamo Prima altri eventi Scopriremo prima Quelle che sono le novità Dei prossimi eventi Per poi arrivare a quelle Che sono quelle di capodanno Ma tanto qui Per i prossimi eventi E per capodanno Ci saremo sicuramente Anche noi di McEvins E quindi potremo Pian piano svelare Quello che sarà La sorpresa Il botto di fine anno Allora Carlo L'ultima cosa Io prima le ho presentate Come le stelle più belle Di questa serata Ci circondano anche adesso Ma diciamo Quello che veramente Fanno queste splendide ragazze Che cosa Quali sono stati I loro compiti Questa sera E quindi Di che gruppo si tratta Presentacele tu quindi Allora Questa diciamo Un'altra idea Che abbiamo Messo in atto Proprio questa sera E che poi seguirà Con tutte le altre serate Per tutte le altre serate Niente Niente Loro si chiamano Le spritz girl Per essere precisi Il loro compito È quello proprio Di spruzzare Quello che è Un room e pera Diciamo Durante Durante la serata Ai clienti Del locale Ho capito Io ho visto Anche animazione Certo Quindi è un gruppo Di animazione Che ravviva il locale Cercando di coinvolgere Un pochino tutti Ho visto che Tramite la loro bellezza Hanno avuto Molto successo In pista Quindi automaticamente Le rinviteremo Per i prossimi eventi Saranno prima di tutto Fisse nei nostri eventi E poi Ci tengo un attimo Anche a ringraziare L'agenzia Night and Day Che mi ha dato Una Veramente una mano Nell'organizzare Questa idea Che poi è partorita insieme Benissimo Carlo Allora noi di Make Events Ti facciamo Un in bocca al lupo Per i prossimi eventi Sicuramente ci rivedremo Qui all'HB Vuglico Di Nola Un saluto A tutti voi Da Sasi Dal direttore artistico Carlo Giannini E dalle Spritz Girl Di Nuna Di Nuna Di Nuna In Di Nuna Un Sé Di Nona Util Tema Saluto